Dottor Ong Dottor Ong, è in casa? E' morto? Credo che tu sappia già la risposta. Clark, pensi veramente che io c'entri qualcosa? Altrimenti perché saresti qui? Hai sostenuto di non sapere niente della Sintecnix. Infatti! Ma dopo che hai dato l'allarme, ho indagato. Mi dispiace, ma non ti credo. Credi quello che vuoi. Il Dottor Ong stava per bloccare il progetto, si è pentito e forse l'hanno eliminato. Probabilmente è stato il suo capo. Parli di Alistair Krieg. Ti vedo preparato. Krieg è in pieno delirio. Un progetto iniziato come un tentativo di dare una vita normale ai mutilate. E' diventato un folle tentativo di creare una macchina vivente. Clark, se sai dov'è Victor, devi dirmelo. Krieg non deve trovarlo per primo. Sta male, gli hanno sparato. Ha detto che se non viene riparato, può morire. Allora portalo da me. Ho i mezzi necessari, posso aiutarlo senza coinvolgere Krieg. Ho visto come aiuti le persone. Senti, lo so che ce l'hai con me, che sei arrabbiato. Ma vuoi che i nostri contrasti impediscano che Victor si salvi?